e bianco solo nella camicia di filo, squadrata sul davanti come una pettorina nera per il lutto. Stava fermo sull'aia come un corvo nero che non si muove, ma aspetta di muoversi appena avvisterà una carogna d'animale e vi si butterà a volo radente. Ma Calogero Sardella no, Calogero Sardella non si muoveva, perché la sola cosa per cui valeva la pena di muoversi o sciogliersi dall'afa, il mare era inutilmente lontano, quei 18 chilometri, per potervi situffare. Un'inutile, bigliacca distanza di chilometri 18, pensava. Io Calogero Sardella.